Il nuovo regolamento edilizio in base alle disposizioni pervenute dalla Regione va approvato entro settembre negli uffici del settore urbanistica. L'attività è partita da diverse settimane e la dirigente Emanuele Tuccio, così come concordato con i tecnici e con l'assessore Ivan Liardi, ha scelto la linea della concertazione con tutti gli ordini professionali. Gli atti sono stati trasmessi proprio agli ordini che potranno formulare proposte di modifica partendo sempre dal regolamento tipo definito dalla Regione. È uno strumento di pianificazione comunque rilevante in un territorio che per decenni ha dovuto fare i conti con gli effetti di un capillare abusivismo. Gli ordini professionali avranno anche la possibilità di partecipare alle attività istruttorie attraverso propri rappresentanti che si confronteranno con il gruppo di lavoro interno al settore urbanistica che è stato formato proprio da Tuccio. Ne fanno parte l'ingegnere Giacomo Cascino e la geometra Vincenzo Caruso e collaborerà anche l'avvocato Giuseppe D'Aleo, esperto del sindaco Lucio Greco ed ex assessore all'urbanistica durante l'amministrazione Fasulo. Gli ordini professionali potranno far pervenire le proposte di modifica entro il 20 luglio. Sarà poi il Consiglio Comunale a pronunciarsi sulla scorta dell'elaborato che sarà trasmesso dagli uffici dell'urbanistica. Dopo il provvedimento regionale negli uffici proprio dell'urbanistica, le attività preliminari sono subito partite per adeguare il regolamento a quanto previsto dalla disciplina regionale. Si tratta di un passaggio comunque importante proprio per arrivare ad un regolamento completo.